Ciao ragazzi, eccoci con un nuovo video. Come potete vedere qui sullo sfondo c'è il mio bellissimo Game Boy Pocket, bellissimo ovviamente. Vi direte, come mai c'è questo bellissimo Game Boy Pocket qui sullo sfondo? Perché oggi parleremo di un gioco che piace a tutti. Un gioco che ha riscosso tantissimo successo, non solo qua in Italia, ovviamente, in Giappone, in tutto il mondo. E il gioco è... Pokémon. In particolare oggi parleremo di Pokémon Green, questa è la versione originale, la versione ufficiale, uscita solo in Giappone. Infatti questo è il primo gioco della serie Pokémon per Game Boy ad essere uscito, nel lontano 1996-95, non ricordo, oggi. E oggi proveremo uno delle cose che ha fatto più parlare di questo gioco, proveremo ad ascoltare insieme la canzone di Lavandonie. Iniziamo subito. Allora, quello che ci serve è il Game Boy, qua il Pocket e la cartuccia di gioco. Iniziamo subito. Iniziamo a fuoco. Ok. Iniziamo il volume. Questo gioco è completamente in giapponese. Per chi ha visto già l'unboxing di questo gioco, questo gioco ovviamente è un... non è un rifacimento, è l'originale proprio, è la copia di Pokémon Rosso e Pokémon Blu italiano. Solo che qua, in questo gioco, ha diversi sprite. Come potete vedere, Raidon qui è in un... in un modo... lo possiamo vedere in un modo completamente diverso. Kater, che mi sembra uguale a tutte le altre versioni, invece. Poi vediamo qua, ditto, sì, è un po' più... ...splicicato, un po' strano. Ok. E Labra, sì, un po' diverso. Questi sono i primi sprite. Come dicevo, oggi ci troviamo proprio a Lavandonie. Gioco tutto in giapponese. Eccoci qua. Siamo usciti dal tunnel roccioso, credo. Non si vede molto bene. Vediamo se riesco. Andiamo qui. E qua, dopo questo salto, si dovrebbe iniziare la musichetta tanto attesa. Anzi no, qua. Eccola qui. La tenebrosa musica di Lavandonie. Dicono che questa musica faccia impazzire. Infatti nelle versioni di rosso e blu italiane è stata cambiata. E anche in tutte le altre versioni. Si blocca un po'. Andiamo a vedere qua. Questo fa più paura, sinceramente. Andiamo a vedere. Oh, c'è il nostro amico Gary, scusate. Quindi questa è la musichetta tanto odiata, tanto discussa. Ci provoca tanto di quelle... È là. Ci provoca tante di quei disagi. Andiamo a rivedere. E niente, ragazzi. Questa è la bella musichetta di Lavandertown. Riproviamo a sentirla. Quanto ci piace questa musichetta. Non mi ricordo sinceramente in cosa differisce dall'altra, eh, sinceramente. A me sembra uguale. Adesso andrò ad ascoltare anche l'altra. Per adesso non mi sta facendo impazzire, ragazzi. Quindi, che devo dire? Forse questa parte non c'era. Quella più psichedelica. All'altra dentro. Qua c'è un trucchezzo a fare, se non ricordo male. Vabbè, ragazzi. Questo era giusto un video speciale per farvi vedere, per farvi sentire questa bella musichetta. Tanti non vogliono ascoltarla, ma... State attenti. Ci vediamo in un prossimo video e vi saluto. Ciao, ciao!